Siamo tornati amici di Obiettivo News con una nuova puntata di due e quattro ruote e passioni motori. Sono felicissima oggi di avere un graditissimo ospite che è il campione italiano di rally asfalto Simone Campedelli, campione 2023 e 2022 insieme a Tania. Allora, innanzitutto il numero che mi fa più impressione è quello di 20 stagioni. Stagioni in corso vuol dire che quindi non sono più così giovane nel correre, anche se in realtà mi sento ancora 18 anni.